Questo video riguarda i migliori 3 smartwatch Garmin. Il vincitore della qualità è il Garmin Instinct Graffite. Smartwatch progettato su standard militare usa 810 per la resistenza termica, agli urti e all'acqua. La batteria interna ricaricabile garantisce una durata fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 16 ore in modalità GPS e fino a 40 ore in modalità di risparmio energetico ultratrack. Accesso a più sistemi satellitari GPS, GLONASS e GALILEO. Dispone di altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo, una bussola elettronica a tre assi e il termometro. Sensore cardio da polso e oltre 20 app per lo sport precaricate con piani di allenamento running gratuiti Garmin Coach. Monitoraggio fitness 24 barra 7 con rilevamento dei passi, piani di scale, minuti settimanali di attività intensa, body battery, rilevamento stress, monitoraggio del sonno e avvisi di frequenza cardiaca anomala. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Garmin Forerunner 55. I dati rilevati dai sensori GPS e cardio integrati forniscono tutto ciò che ti serve sapere durante le tue uscite, tempo, distanza percorsa, passo, frequenza cardiaca istantanea e zone cardio. Garmin Coach è una funzione completamente gratuita integrata in Garmin Connect per la creazione di tabelle di allenamento personalizzate per ogni tipo di runner, dai principianti agli intermedi, che vogliono arrivare a correre 5 chilometri, 10 chilometri, 21 chilometri. Forerunner 55 impara a conoscerti e arriva a suggerirti, ogni giorno, un allenamento personalizzato basato sui dati registrati durante gli allenamenti precedenti, sul tuo stato di forma, sul sonno e i tempi di recupero stimati. Grazie a decine di funzioni specifiche, Forerunner 55 è uno sportwatch completo in grado di supportare ogni tipo di runner. Il vincitore del premio è il Garmin Venue SQ. Di play a colori sempre leggibile e con modalità Always On, fino a 6 giorni di carica in uso smartwatch e fino a 14H con GPS attivo. Monitora 24 barra 7 la frequenza carciaca, il livello energetico della tua body battery, la respirazione, lo stress e il sonno e tieni traccia dell'idratazione e del ciclo. Include camminata, corsa, bici, esercizi di respirazione, nuoto, golf e molto altro. Più di 20 app sport precaricate, per tenerti sempre in movimento. Puoi seguire gli esercizi precaricati di cardio, yoga, forza, pilates, o puoi creare i tuoi sull'app Garmin Connect. Puoi anche seguire un piano di allenamenti per la corsa di Garmin Coach che si adatta ai tuoi risultati per aiutarti a raggiungere i tuoi prossimi obiettivi. Con le Smart Notification al POSLO, non perderai una telefonata, un messaggio o un avviso social. Durante la tua attività sportiva, grazie alle funzioni di sicurezza e tracciamento. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.